Con la fine del 2021 finisce anche l'era di Ciabatti. Le parole del signor Antonello da oltre 20 anni, 25 per la precisione, alla gestione della storica attività nella Via Dante, ereditata dal papà. Signore Antonello, Ciabatti, il 31 dicembre, dice addio a Cagliani, in qualche modo l'attività verrà ceduta chissà chi, chissà come, però comunque lei ha preso la sua decisione. Sì, diciamo che ci stavamo pensato da un po' di tempo, poi in famiglia diciamo che ci siamo organizzati in maniera diversa, mia moglie ha trovato uno sbocco, i miei figli pure, anch'io sto facendo altro perché di fatto io sto facendo da una decina d'anni, faccio il rappresentante e quindi a questo punto il negozio ormai gestire un negozio devi essere presentissimo, sempre presente, molto attento e non ti può permettere di fare errori. Non si può più gestire il negozio in maniera manageriale, devi essere proprio presente 24 ore su 24 a 360 gradi. E' un pezzo di storia di Cagliari che se ne va indubbiamente, comunque adesso rimane ancora, rimangono un po' di settimane da quel 31-12, poi dal 1 gennaio 2022 Ciabatti non ci sarà più. Ecco, com'è cambiato in questi anni di gestione il mondo del commercio cagliaritano, com'è cambiato il commercio sotto casa? Questa è un'attività che comunque è un nome molto conosciuta, però lei c'è da oltre 20 anni, 25, com'è cambiato questo settore? All'intanto stiamo facendo questa intervista qua nel retro bottega del nostro negozio, dove potete vedere come ancora abbiamo un magazzino fornito di tante cose, mi viene da dire anche vecchio stile. Forse qui proprio si sente più il sapore che siamo antichi, che siamo, insomma... D'altri tempi. Esatto, che siamo d'altri tempi. Com'è cambiato questo settore? Diciamo che questo settore ovviamente è negabile che sta subendo il cambiamento dei tempi. Stiamo avendo un tempo che ci sono dei cambiamenti veloci e importanti, molto importanti. Noi siamo passati da una sartoria che confezionava, noi avevamo tante sarte che confezionavano abiti, quindi venivano qua a comprare i bottoni, gli accessori, eccetera, eccetera. Adesso stiamo passati a una sartoria che ripara, comprano le pezzette da mettere nei buchi dei giubbotti, dei pantaloni e così, quindi chiaramente i numeri si sono ridotti. Probabilmente noi non siamo stati bravissimi nell'adeguarci ai tempi, perché se forse con un po' più di attenzione nella gestione del negozio forse saremmo stati... potevamo esserci ancora, potevamo durare ancora un bel po'. Ma poi il mondo cambia, la vita cambia, le esigenze sono diverse, quindi abbiamo preso... era una decisione che era nell'area già da un paio di anni. Adesso abbiamo fatto il deciso definitivamente, ecco. E allora, in bocca al lupo, signor Ciabatti. Grazie.